E ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente qui in un altro episodio di The Wolf Among Us Allora ragazzi, nello scorso episodio era stata decapitata la prostituta e oggi dovremmo, appunto in questo episodio dovremmo scoprire intanto chi cacchio sia Intanto mazzo di tarot chiusa, vediamo che cacchio ci dice Ok, che devo fare? Usa, dice altra roba? Ah, the tower Vediamo che, diciamo che cose positive, ma sono tre carte c'è Vedi certo, carta tarocchi, ottimo C'è la lampada del genio Allora io non l'avevo vista nello scorso episodio, era la lampada del genio, quindi io direi intanto di osservarla Lampade magiche Ah ok, quindi il genio è stato liberato, vabbè strofiniamola, magari strofina Ok, va bene Allora, la lampada è vuota, parliamo con lo specchio magico, però prima osserviamolo, vediamo che cosa ci dice Ah no, ti guardi allo specchio, va bene, specchio Ah no, la lampada magica, ho una domanda C'è 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 una domanda Ok C'è una domanda Non conosco il suo nome Neve, vediamo, vabbè neve Ah, Biancaneve C'è una domanda Non è C'è una domanda C'è una domanda ぶkken non conosco il suo nome non è ancora ancora beh, mentre lo faccio non posso aiutarti non c'è nessuno molto bene, potete tornare se volete chiedere di chiedere di chiedere di qualcuno altro oh, stai tornando con i libri è appena fatto beh, sono sicura che ci saranno tutto scelto ok grazie ok dobbiamo trovare il nome di questa donna allora, usa la carta... vediamo che mi diceva la carta sono curioso questo significa il tarot è un artista non potrei mettere troppo stocco nella sua sabbia, Bigby non quando sei stato così aiutato le previsioni sono scelte sono così scelto come una finestra ok, va bene allora, andiamo a vedere i libri oh, ma dov'è? Biancaneve! dove dov'è? Bianchi! Bianchina! come cazzo di che... ah, qua, libro delle fiabbe madonna mia, è enorme allora libro delle fiabbe sa? libro dei simboli ok comunque ragazzi lei è Biancaneve quindi yeah guardiamo il libro dei simboli ah, per trovare l'anello cosa è sta cosa? simbolo esamina? esamina? esaminiamo sto simbolo cosa? non posso leggere nessuna cosa posso aiutare sì, grazie guardiamo per l'altro non lo facciamo però tradizioni hmm un esquisito design da la buona cina di Toad Hall mister Toad? probabilmente scrivono questo in lui quindi allora penso dobbiamo cercare il simbolo oh, l'abbiamo trovato madonna che culo simbolo anello questo è il simbolo questo è il simbolo dove c'è questo simbolo quali famiglia o storia? questo è una strada famiglia famiglia l'abbiamo 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 non ho capito non ho capito e cosa è il suo suono? Lawrence Prince Lawrence nuova voce nel libro ora andiamo a vedere perchè non ci non ci si il suo nome è Faith si è casata con Prince Lawrence mi chiede questo è più che noi si quindi già potremmo parlare con il marito non possiamo escludere non possiamo escludere cioè a questo punto controlliamo tutto oddio che che le cose si si infittisce tutto Gioina mi scusi allora abbiamo scoperto che la tizia era Faith intanto però scusatemi un attimo e allora capiamo un attimino che io di questa storia non ci ho capito un cazzo dove è Faith allora Faith conosciuta anche come pelle d'asino ha superato l'esodo dalle terre delle magiche terrenate con i suoi soli abiti suo marito la sua vita e nient'altro una volta era una principessa felicemente sposata con Lawrence principe di regno limitrofo limitrofo non lo so si supponeva che la sua storia dovesse finire con e vissero felici e contenti ma la città terrenate di New York non è stata gentile con lei o con il suo matrimonio senza denaro Faith si è dovuta arrangiare per pagare l'affitto di un appartamento economico alla periferia di Favolandia ha vissuto tra mille difficoltà ma ha fatto tutto ciò che poteva per sopravvivere in un mondo a lei siconosciuto ok va bene perfetto diciamo che qui le cose si infittiscono ragazzi proprio diventa un bel dito al popò allora vediamo il libro delle fiab esaminiamolo guardate che figate il lupo cattivo biancaneve i sette nani il taglialegna il taglialegna il capuccetto rosso la bella e la bestia la bestia ah i tre maialini Jimmy e i suoi fratelli sta qui ha pelle d'assino ma io questa storia personalmente non l'ho mai sentita ecco chi c'è rospo e chi è questo qua ah ok quello ma porca vacca no raga è intricatissima la storia eh porca vacca va bene anello di fate va bene ok abbiamo scoperto intanto chi è e questa è una bellissima cosa andiamo a parlare con con lo specchio o cio specchio 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 delle mie brame ha chi buccia il culo di letame e dimmelo mir mir bla bla Abel, bla 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 Allora, il padre di Fate Allora, intanto chiediamo di Fate Non è la mia scelta la falluca, è semplicemente il maio Principe Lawrence Non è cosa sta facendo Eh, ci dovremmo andare, sì Il padre di Fate Ah, sta bene a quanto vedo Eh beh, ma anche il principe Era bello che è morto, eh Mi sa che l'hanno ammazzato Eh sì, dobbiamo andare, è morto Ma, 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 ma dovreste correre, è morto Pronto? Mi stanno chiamando, mi chiamano tutti, chiamano Pronto? Ok, riprendiamo dove ce l'hanno lasciati Oh, chi è? Oh, ciao, l'aspo Eh, l'auto Che c'è? Che c'è? Ah, quindi dovremmo Madonna che brutto ombra un'era che c'aveva Ah, ok, quindi penso dovremmo decidere Se andare Credo appunto probabilmente appunto questo Se andare là o là Business office Andiamo bianchi, bianchina, biancaneve Biancuccia, bianca La signorina biancaneve Diciamo Me la bomberei tranquillamente Che figa questa cosa Ebbè Eh, lo sapevo Dove andiamo prima Dove andiamo prima Allora ragazzi Di Rospo dove c'è il finimondo O a casa di Lawrence Dove probabilmente scopriremo Qualcosa di brutto Non lo so Ditemelo voi qui sotto nei commenti Quindi ragazzi Gabbè Gabbè Grazie a tutti per aver guardato il video! Come tagliare con l'idea!